Le vie dei tesori è una manifestazione che è stata apprezzata da tanti, tra l'altro siamo all'ultimo fine settimana, però nonostante siamo all'ultimo fine settimana voi avete voluto evidenziare oggi perché ciò non si ripeta probabilmente che non è proprio vero che tutti gli accessi che erano consentiti ai diversamente abili rendono poi agevole il vostro ingresso e la visita a questi siti. Sì, oggi come ultima giornata volevo visitare la chiesa di San Nicolò, la Latina, visto che sul De Plane c'era l'accesso per i disabili in parte, in parte io non capisco cosa significa anche perché io venendo qua davanti la chiesa mi ritrovo i gradini e i gradini non so in parte come poterli superare. Io chiedo una maggiore attenzione per quanto riguarda i portatori di handicap che siano in carrozzino o meno perché se uno vede il De Plane, a me mi hanno chiamato tantissime persone di fuori che volevano venire a vedere questa chiesetta, ma venendo io a constatare di persona dico che non è accessibile, almeno arrivano qua e già sono preparati per organizzarsi per come entrare. È chiaro che alcuni siti per forza di cose non sono accessibili ai diversamente abili, però alcuni erano stati riportati nel De Plane come luoghi visitabili e questa è anche la vostra rabbia, non un po'? Certo, perché vedendo noi qua nel De Plane, fatto giustamente dall'organizzazione delle vie dei tesori, abbiamo valutato un po' la situazione, abbiamo avuto la curiosità di vedere quelli che potevano essere in parte accessibili perché da disabili capiamo che noi non possiamo andare nella Torre Campanaria dei San Michele, nella Chiesa della Madonnuzza, la Casa dei Circo, poi per quanto riguarda pure la Casa dei Gesuiti che è in parte accessibile anche perché c'è l'ascensore e giustamente poi dove c'è la loro consigliare non possiamo andare, che sicuramente si sistemerà con il passare del tempo. Come pure molti siti non erano giustamente accessibili, noi non abbiamo niente da dire perché capiamo, abbiamo un cervello per poter ragionare e sappiamo che noi non possiamo raggiungere quei luoghi. Ma laddove si parla qua in parte, tipo per esempio come già ha fatto presente Luca per la Chiesa di San Nicolò la Latina, in parte c'è pure scritto per quanto riguarda il complesso monumentale del Fazzello. Come il complesso del Fazzello, se io volesse entrare dalla parte di Corso Vittorio Emanuele sappiamo che ci sono un'enorme scala. Allora uno pensa, dice giro l'ostacolo andando da via Giuseppe Licata che è un po' più basso, invece no, anche lì ti trovi dei gradini, il legno, ma i gradini sempre sono. Dico io perché non devono pensare ad abbattere queste barriere? Ora questi siti che non sono stati adeguati non è che è colpa della natura, è colpa dell'uomo in questo caso. E in questo caso poi giustamente è normale che devo entrare nel merito dell'amministrazione perché vero è che il Deplian l'ha fatto i signori delle vie dei tesori, vero è che il sindaco e l'amministrazione hanno il dovere di controllare e rivedere il Deplian, controllare sul posto mandando i propri tecnici ed eventualmente poterli adeguare. la chiesa perché la sannocola latina bastavano solo quattro tubi innocenti, questi da carpentieri, e poter fare lo scivolo perché lo spazio c'è. Ci sono degli altri siti che a vostro avviso potevano con poco essere adeguati in modo tale da consentirvi l'accesso? Certo perché non è che sia una spesa chissà da quanto, anche il fazzello non ci voleva niente di sistemare quei quattro gradini che ci sono o addirittura proponiamo con tutti noi che eliminassero questi gradini in legno che ci sono e fanno direttamente lo scivolo perché lo spazio c'è e quindi si potrebbe risolvere e con pochi soldi non c'è bisogno di spendere tanti soldi. Un altro rammarico per voi è la chiesa dello spazio? Stavo rammarico lì, grazie di avermi rammarico. Lì la chiesa dello spazio, siamo completamente arrabbiati soprattutto perché è un evento eccezionale dopo 60 anni, è stato molto positivo il fatto che un evento molto positivo questo organizzato dalle vie dei tesori perché c'è stata molta gente qua a Sciacca di fuori, noi l'abbiamo notata dai paesi limitrofi. Però la chiesa dello spazio non è che non è accessibile, l'hanno fatta diventare non accessibile perché bastava, perché poi non è inaccessibile solo per i disabili, non è accessibile nemmeno per i normodotati. e le spiego perché, perché per quanto riguarda i disabili c'era lo spazio e quindi potevano creare benissimo lo scivolo senza spendere tanto, sempre con i tubini accendi, mettere le tavole, essere rientrare i paesi. Per quanto riguarda i normodotati, i gradini della chiesa dello spazio sono tutti rovinati. Io sono andato sabato scorso a visitarla, sono stato molto mortificato perché mi hanno dovuto spingere in quattro per entrare nella chiesa e vedevo gente di una certa età, ma anche giovani, che si tenevano uno contro l'altro perché per la paura di poter scivolare e poter cadere. Senta, l'appello che voi oggi lanciate, posso che è l'ultimo fine settimana, è che il prossimo anno si faccia più attenzione e si consenta a tutti di poter accedere a questi siti. Certo, ma noi abbiamo sempre detto che siamo sempre disponibili a collaborare. Quando ci sono questi eventi, ci chiamano, dice vediamo come si può risolvere il problema anche se abbiamo dei tecnici molto bravi pure al comune. Ma la presenza dei disabili è tutta un'altra cosa perché un conto è viverla la vita sulla sedia a rotelle e un conto non viverla. Quindi noi potremmo essere di supporto all'amministrazione anche perché poi ci arrabbiamo perché alla sindaca Valendi, noi quando si è insediata, avevamo presentato un programma delle barriere architettoniche. Non è che hanno fatto nulla e molte sistemazioni sono tutte a costo zero. Poi è successo il Covid giustamente e si è fermato tutto. Capisco che ormai non c'è più il tempo per poter sistemare qualcosa, anche se si può fare ancora qualcosa su alcuni posti. Ma la cosa più importante è venirci incontro perché anche noi siamo delle persone umane. Noi non ragioniamo con le gambe, noi ragioniamo con il cervello. Quindi è quello che pregherei è di abbattere le barriere soprattutto mentali. Le barriere mentali sono fondamentali, è per tutti, è per gli amministratori, è per tutta la gente. Però quello che riguarda, che ci fanno proprio arrabbiare, è perché a un certo punto ci dobbiamo pagare sempre noi. Paghiamo le tasse, paghiamo tutto quello che c'è di dovere, però poi i diritti non ce li danno. E questo fatto ci mortifica più che altro. Senta, sottolineiamo anche che in alcuni siti voi siete entrati, lei lo ha detto poco fa, grazie alla disponibilità di quanti stanno collaborando a questa iniziativa delle vie dei tesori. E però non può essere lasciato alla buona volontà o alla disponibilità di chi sta gestendo questa manifestazione, anche con il rischio che succeda qualche incidente. Ma certo, io per esempio ho notato i ragazzi qua a San Nicolò, la Latina e anche al fazzello. Queste ragazzette che si erano messe a disposizione, dice, guardi, non si preoccupi, ora la prendiamo o no, la facciamo entrare. Ma non posso accettare una cosa del genere. La signora Stefanetti pure, era mortificata a San Nicolò, la Latina, nel vedermi, dice, Totò, non so come potete farti entrare, è stata una dimenticanza, hanno sbagliato il depilato. Ma è così, ma io già, era una tenerezza vedere quelle ragazze mettersi a disposizione per potermi farmi entrare. Ma non potevo accettare, ma non perché non avrei voluto, perché potrebbe essere, metti caso succede un incidente, la coppa diventa poi dei ragazzi. E io questo non l'ho, ma soprattutto per la mortificazione. Allora a quel punto io ho detto vi ringrazio, siete state molto carini, molto gentili e me ne sono andato. Ma poi ho fatto gli altri giri, abbiamo fatto gli altri giri e non cambia nulla. Quindi diciamo, il prossimo anno, per tempo, visto che è una manifestazione che piace a tanti, che consente di visitare tanti luoghi belli della città, in genere inaccessibili, il prossimo anno pensiamo a tutti, ma proprio a tutti, a consentire a tutti di accedere a questi luoghi. Ma certamente, perché le disposizioni di legge sono a livello nazionale e quindi bisogna pensare anche ai disabili. Cioè noi, quello che poi abbiamo notato qua nel Deplian, che ci sono vari enti, la sovrintendenza, c'è i beni culturali, c'è l'ente Sicilia, il Ministero degli Interni. Cioè questi signori, giustamente, sanno, conoscono bene le leggi quale che sono. Cioè il decreto 503 del 96, l'ultimo, il decreto ministeriale dell'89, che regola tutti gli edifici di culto e anche qualsiasi tipo di edificio che deve essere adeguato alle normative. Cioè non capisco perché ogni volta le dimenticano, le dimenticano non si sa perché, hanno troppi impegni, troppi lavori. E noi disabili, perché dobbiamo essere sempre marginati? Cerchiamo di non farlo dimenticare, teniamo acceso questo faro. Speriamo che per il prossimo anno, per qualsiasi evento, per qualsiasi evento sottolineo, ci contattino. Tanto ce li hanno i numeri, ci conoscono dove trovarci e poter fare queste cose. Perché saremo, per la prossima amministrazione che ci sarà, saremo a tolleranza zero, a prescindere il colore politico che succederà alle prossime elezioni, e a prescindere il tipo di assessore che ci sia, sia di sesso maschile che di sesso femminile. Cioè quello che chiediamo è la maggiore attenzione, la collaborazione, perché noi non vogliamo fare delle cose eclatanti, nella maniera assoluta. Basta discutere, ci si siede, si discute e si trova avanti, non è che cose. Non li vogliono, secondo me, fare tante cose. Altro che devo dire, che essendoci questo evento così molto importante, quello che ci dispiace è che a molti amici disabili abbiamo dovuto dire di non venire perché volevano venire a visitare questi siti perché non sono accessibili.